buongiorno agli ascoltatori la verità alle sette la resegna politicamente scorrettissima della verità potevamo lasciarvi soli l'ultimo giorno dell'anno no assolutamente no e allora tanti auguri e anche questa mattina diamo uno sguardo ai quotidiani che sono in edicola naturalmente rivolgendovi un invito a recarvi in edicola a prendere la verità che ci sarà oggi come gli quotidiani e invece come tutti gli altri giornali non ci sarà domani primo gennaio l'appuntamento in edicola si rinnoverà il 2 gennaio quando anche ci ritroveremo in questo spazio sarà con me francesco vialietti il mattino successivo marco gerbasoni come sempre poi la prossima settimana tornerà anche lorenzo castellani colgo l'occasione da questo punto di vista per ringraziare mentre cominciano arrivare numerosi i primi amici eroici in diretta anche alle sette di mattina al 31 dicembre colgo l'occasione per ringraziare non solo chi ci ha seguito con tanta attenzione ma naturalmente tutta la squadra della verità il direttore maurizio belpietro il condirettore massimo de manzoni i vice direttori martino cervo francesco borgonovo giacomo amadori il responsabile della piattaforma digitale claudio antonelli tutti gli amici redattori e collaboratori tutti quelli che si sono resi disponibili a questi appuntamenti del mattino lorenzo castellani il martedì francesco vialietti il giovedì marco gerbasoni il lunedì e il venerdì e poi via via tutte le voci che si sono alternate anche il pomeriggio allora senza frapporre in lugio siamo già tantissimi siamo già molte centinaia in diretta le aperture di oggi la verità giuseppi sogna i pieni poteri altro che partito conte vuole il colle il premier e all'ennesima giravolta da avvocato del popolo è passato convintamente a sinistra e ormai si vede come astro della politica a prescindere da pd e 5 stelle e nel 2022 punta al quirinal questo è il titolo d'apertura e vedremo che su questo ragiona anche nel suo editoriale maurizio belpietro partiremo tra poco da lì le altre aperture in larga misura centrate su questa storia della verifica di governo tra tensioni smentite punture di spillo corriere della sera sfida sul reddito e quota 100 il pd dice vanno rivisti di mai o mai gelo dei 5 stelle su conte dopo la battuta di ieri consegnata a repubblica non sarò cincinnato non resterò ai margini voglio continuare a fare politica il fatto quotidiano ormai è una saga c'ha questa fissa di salvini in televisione insomma è un po curioso che un giornale ormai governativo se la prenda contro la presenza in tv dei leader dell'opposizione queste cose diciamo non accadono nei paesi che godono di buona salute democratica che i giornali governativi dicano all'opposizione sta troppo in tv ma invece il fatto è ormai la quarta o quinta copertina su questo la gcom indaga su telesalvini che è successo che l'autorità per le grazie ha semplicemente aperto un'istruttoria come fa regolarmente su questo ma insomma il fatto monta la panna troppo spazio in tg e talk da ministro e poi da oppositore l'istruttoria dell'autority sulle sue 111 ore in tv da luglio a novembre il giornale ci riporta a conte in termini molto critici conte vinavil come la nota colla l'avvocato di se stesso il premier cambia idea e si incolla alla poltrona e nel occhiello l'altra notizia della giornata ampiamente peraltro preannunciata dopo le dimissioni da ministro fioramonti lascia il movimento 5 stelle però non è chiaro se l'ex ministro riuscirà a costruire il suo gruppo parlamentare essendo stato diciamo per il momento vorremmo dire scaricato ma un po congelato surgelato da conte che doveva essere suo sponsor il messaggero apre su se stesso nel senso che intervista la ministra e la funzione pubblica dadone messaggero è il giornale che a roma è letto diciamo da molti statali e quindi ha un focus sui dipendenti della pubblica amministrazione statali ricambio per 150 mila la dadone bandi più veloci a gennaio tavolo per il nuovo contratto va bene ma il messaggero lo vedremo però per un'altra cosa per un commento interessante di carlo nordio la repubblica altra ossessione anti salvini cercasi e c'è una specie di mappa dell'anno che verrà e insomma la repubblica si interroga su chi possa essere l'anti salvini anche qui è atteggiamento un po curioso indicare come centro della politica il leader dell'opposizione vuol dire che la maggioranza tanto in salute non sta e infine l'ultima apertura che abbiamo selezionato per voi è la stampa anche qui apertura su se stessa su un'intervista che è realizzato con uno dei leader non in grande salute politica della maggioranza matteo renzi che insiste e dice il reddito di cittadinanza va cancellato allora questo è il quadro delle apertura come è promesso partiamo da maurizio belpietro e dalla sua diciamo analisi di conte belpietro fa tutta diciamo la cronistoria dell'avventura politica di giuseppe conte nel conte 1 nel conte 2 le sue crescenti mire e vediamo come non conclude il direttore della verità ma chi avesse pensato che il capo del governo che al capo del governo interessasse il posto di capo politico dei grillini si sbagliava conte non ha alcuna intenzione di fare il nuovo di maio e di guidare i 5 stelle il presidente del consiglio ha ben altro in testa per il suo futuro non a caso in parlamento si agita l'idea di un gruppo a lui direttamente ispirato anche se il premier nega il partito di conti in realtà è già pronto anche senza la sua benedizione ufficiale e serve a traghettare i grillini delusi verso una nuova sponda obiettivo il sostegno alla linea del premier sia in caso di spartizione di governo sia in vista di future elezioni l'avvocato del popolo insomma si prepara a organizzare la difesa della sua poltrona del resto nonostante le fibrillazioni della maggioranza è lo stesso conte a dire di essere tranquillissimo il premier infatti è convinto che comunque vada per lui andrà sempre bene perché il potere logora chi non ce l'ha che i 5 stelle si dividano che il pd sia scosso da scissioni poco importa l'unico punto fermo resta lui almeno fino al 2023 per quella data magari altre cose potrebbero cambiare del resto non è nel 2022 che si libere il quirinale da avvocato del popolo a presidente del popolo il passo per l'uomo che si è appassionato al ruolo potrebbe essere breve così il pronostico preoccupato e preoccupante di maurizio belpietro che ovviamente non ha ulpica questo esito ma dice guardate che le mire di conte sono ambiziosissime mira al quirinale e sarebbe abbastanza clamoroso ammesso che la legislatura e questa legislatura così anemica duri fino alla fine che poi si arrivasse a una specie di curioso ballottaggio tra un bis di mattarella e la candidatura di conte sarebbe diciamo una scena non brillantissima sotto molti punti di vista peraltro l'offerta informativa della verità diciamo sulla pagina politica è molto ricca perché vi segnalo altri due pezzi importanti alessandro ricco che diciamo fa una specie di mappa di tutte le balle di conte sui migranti sulle tasse sull'europa le giravolte cosa diceva prima cosa dice adesso e poi lucca telese su fioramonti che molla i pentastellati e apre tre crepe nella maggioranza e anche qui appunto le interpretazioni l'interpretazione che abbiamo visto di maurizio belpietro che diceva conte nega però in fondo fioramonti autorizzato qualcun altro dice come vedremo ma fioramonti è stato per il momento fermato da conte ecco andiamo a vedere chi invece privilegia questa seconda interpretazione il corriere della serie il gelo del movimento sul futuro politico di conte fioramonti lascia il gruppo e si facendo nel pezzo al fatto che conte dicano in mio nome non fate nulla però belpietro nel segno quando dice che queste smentite non sono convincentissime nel pezzo di alessandro troci noi siamo a pagina 5 del corriere della stasera c'è anche una diciamo un passaggio di commento dei 5 stelle su il virgolettato di ieri su repubblica di giuseppe conte quello in cui dice io resterò in politica il premier non ha intenzione di fondare nuovi partiti ma non esclude affatto l'ipotesi di aderire a uno di quelli esistenti il punto scrive trocino interpretando i 5 stelle è perché senta la necessità proprio ora di sottolineare di non essere più un tecnico prestato alla politica virgolette è un segnale di debolezza spiegano nel movimento perché annunciare ora il suo futuro politico quando è premier in carica evidentemente non crede molto nel presente qualcun altro più ruvidamente avverte e si riaprono per la seconda volta sempre in modo anonimo le virgolette si ricordi da dove è venuto e chi lo ha portato a palazzo chigi insomma è atmosfera velenosa e tesissima dentro i 5 stelle confermata dalla metà inferiore di pagina 5 del corriere della sera nei giorni scorsi avevamo letto in chiaro e più spesso sempre in forma anonima tutta la rabbia dei grillini più o meno dissidenti o malpancisti rispetto a casaleggio e sempre trocino raccoglie la risposta di davide casaleggio l'ira di casaleggio dai parlamentari 5 stelle falsità su di me parlano di lobby e conflitto di interessi ma mi risulta che 120 di loro abbiano quote in aziende e voi capite che quando nei 5 stelle si cominciano a maneggiare come insulti cose normali il fatto che ci siano anche delle attività professionali e imprenditoriali vuol dire che la giad è scatenata quindi conte accusato di intelligenza col nemico o di fomentare spin off e scissioni di mai irritatissimo virgolettati anonimi contro conte i parlamentari contro casaleggio casaleggio che dice falsità su di me l'atmosfera è più o meno questa volete la conferma e la racconta anche repubblica siamo anche qui a pagina 5 in questo caso concetto chiedo scusa corrado zunino è andato a raccogliere un virgolettato del fuoriuscito fuori a fioramonti che dice noi indietro di 30 anni e si parla di un gruppo verde in un doppio senso nel senso che in europa fioramonti con esiti per il momento nulli aveva lavorato per l'adesione degli eurodeputati grillini alla famiglia ambientalista e ora vorrebbe far nascere qualcosa anche alla camera ma a nota zunino quindi anche qui diciamo si accredita la tesi di un conte frenatore lo stop di conte ha complicato il piano di fioramonti vedremo diciamo dopo la befana alla riapertura dei lavori parlamentari se ci saranno i fatidici 20 deputati o 10 senatori che comunicheranno alla rispettiva presidenza d'aula di avere aderito al nuovo gruppo denominato eccetera eccetera lo scopriremo che l'atmosfera nei grillini sia una polveriera lo comprendiamo anche da un'altra cosa sul giornale viene sentito quello che è stato il primo dei dissidenti senza lasciare il gruppo al senato dove si trova ma tenendo il punto politico diciamo del no all'alleanza col pd Gianluigi paragona lo sente carmelo caruso il 5 stelle così si sta suicidando e sui rimborsi non mi fermo ecco però nell'intervista di paragone diciamo si nota come il dosaggio stupisca molto poco critiche politiche molto anche lui la rissa sugli scontrini una cosa è sicura io non mi fermerò chiederò al collegio dei probiviri il rispetto delle norme chiederò di sanzionare chi non è in regola con i rimborsi non potrà finire tutto in maniera macchiettistica domanda è vero che rischia l'espulsione proprio lei che ha sempre rendi contato risposta è vero ho ricevuto la mail che mi notificava il procedimento proveniva da un indirizzo che non era neppure certificato insieme al mio avvocato abbiamo sorriso e ancora domanda caruso chi la giudicherà e risponde paragone il collegio dei probiviri di cui fa parte il ministro della pubblica amministrazione fabiana dadone se verrò espulso per non aver votato la fiducia al governo solleverò una questione di incompatibilità i suoi due ruoli proprio il ministro sono in conflitto ma penso questo è il tipo di polemica chissà se i 5 stelle riusciranno a diciamo conquistare il bene di un dibattito politico e non invece solo questa rissa pseudo legale gli scontrini chi può parlare chi non può parlare naturalmente c'è la commedia che trascolora subito nella farsa lo racconta bene il tempo a pagina 2 si preparano il 26 gennaio le regionali non solo in emilia romagna ma anche in calabria sono i giorni della presentazione delle liste c'è anche una lista grillina naturalmente in calabria tra i candidati tale alessia bausone e che però diciamo ha fatto un esordio di campagna elettorale freccamente surreale e il titolo del tempo dice tutto andiamo bene la candidata 5 stelle chattò con caltagirone dice chi l'immobiliarista no con marc caltagirone l'inesistente presunto fidanzato e promesso sposo di pamela prati oggetto ve lo ricorderete di una memorabile saga nei programmi di barbara d'ursi piccolo dettaglio questo marc caltagirone non esiste però la candidata 5 stelle rivendica una conversazione con marc caltagirone chattò con caltagirone è fantastico è tutto fantastico fa ridere la candidata che chatta con l'inesistente caltagirone sì però fanno anche abbastanza ridere per ragioni diverse gli intellettuali di sinistra che proseguono la loro glorificazione di giuseppe conte c'è tutta un'operazione per dire quanto è figo conte e partecipano un po tutti è curioso che partecipi anche repubblica quotidiano che dalla nascita del governo da fine agosto settembre aveva tenuto una linea critica nei confronti del governo e invece ora improvvisamente ha cambiato linea sarà una strategia del gruppo gedi sarà una scelta editoriale ne capiremo di più nei prossimi giorni però è stata repubblica a raccogliere e a rilanciare con Claudio Tito ieri l'annuncio di conte resterò in campo oggi viene scomodato marco revelli politologo insomma uomo impegnato alla sinistra sinistra lo ricordiamo ideologo dell'ala sinistra sinistra del sindacato ideologo di rifondazione comunista bertinottiana non di rado scavalcando bertinotti a sinistra e invece ora ci dice che il democristiano conte è una favola il premier è diventato un argine che evita il peggio lo sente concetto vecchio professor revelli politologo giuseppe conte ha dichiarato di voler restare in politica è una buona notizia conte non mi dispiace sono un uomo della sinistra radicale eppure se lo confronto con l'attuale offerta politica devo dire che è il meno peggiore perché è il garante di un equilibrio che se si rompesse aprirebbe scenari inquietanti per la democrazia italiana antropologicamente mi ricorda la vecchia dc che mario tronti definiva il partito della mediazione pura ecco conte media tra il populismo e le istituzioni sono tutte cose per le quali revelli ancora sei o sette anni fa avrebbe detto sulla base delle stesse premesse la vecchia dc che schifo invece adesso dice che meraviglia che che menù succulento e non vi basta revelli volete invece l'intellettuale ma insomma l'uomo politico di manovra e di regia dietro veltroni e ora dietro zingeretti cioè goffredo bettini anche lui arriva intervistato su correa della sera da maria teresa meli il premier carta importante una sua lista elettorale sarebbe un bene è un alleato quindi addirittura bettini si spinge a prefigurare una lista di sostegno a un rinnovato centro-sinistra giuseppe conte ha dichiarato di voler continuare con la politica anche dopo il suo governo in che ruolo lo vedrebbe domanda la meli e bettini risponde fa bene a voler continuare a fare politica non sono io però a dovergli suggerire come conte si è conquistato un ruolo importante ha fatto scelte politiche nette contro la destra ha avuto pazienza e decisione e poi al contrario di personalità come monti oddini sta lavorando non solo per risanare i conti ma anche per rilanciare la crescita questo è fantastico e bettini ci spiegherà come e ma insomma ormai ha preso la rincorsa insomma è una carta importante per il futuro della repubblica poi viene interpellato sulle elezioni anche lei pensa che dopo questo governo ci siano solo elezioni sarebbe opportuno farle prima del referendum sul taglio dei parlamentari e su questo obiettini è netto sì assolutamente sì se cade conte si va dritti alle elezioni e le elezioni ci saranno solo se ci dovessimo accorgere che questo governo non è più utile all'italia per me non è decisiva la data del referendum sul taglio dei parlamentari e allora però capite bene che qui le cose si complicano perché da un lato è in atto una manovra diciamo così di celebrazione di costruzione del piedistallo per la statua equestre di conte dall'altro però c'è anche un'operazione abbastanza insidiosa il pd se lo sta sostanzialmente annettendo o usando come un tempo il pc usava gli indipendenti di sinistra in una logica di svuotamento del movimento 5 stelle che vive tutte le tensioni che abbiamo già descritto è da immaginare che di maio stamattina non sarà contentissimo nel leggere queste interviste e questi retroscena ma sono problemi di di maio e del suo capodanno a proposito capodanno fine anno fine decennio per la verità il decennio finirebbe tra un anno il 31 dicembre del 2020 però la convenzione storica vuole che per gli storici i decenni si continuo dall'anno zero quindi per gli storici il decennio finisce oggi trovate molte riflessioni molte pagine diciamo pure un po precotte sui giornali di analisi dell'anno e del decennio noi vi segnaliamo la bella analisi del nostro amico professor marco gervasoni sul giornale da questo punto di vista per oggi ci sono anche due scelte che invece diciamo fotografano il presente guardando il futuro lo stato di salute dei leader eccetera oggi sono due sondaggisti due analisti quindi due analisi demoscopiche su corriere e repubblica sul corriere è il professor pagnoncelli a curarla che dice tutti i leader stanno un po in calo di fiducia ma tranne la meloni mentre ilvo diamanti su repubblica diciamo certifica questa specie di come lo vogliamo chiamare vista dal lato sinistro è una specie di inferiority complex nei confronti di salvini visto dal lato salvini è una specie di in attesa egemonia questa storia di repubblica che titola anti salvini cercasi e è proprio il sondaggio demos di diamanti a certificare questa questo salvini centrismo sappiamo se della politica italiana ma certo della condizione mentale di repubblica tutto ruota intorno a salvini per il 21 per cento dei cittadini è il migliore tra i politici per il 34 è il peggiore la sensazione che non abbiano ancora imparato la lezione della loro lotta per vent'anni a berlusconi se tieni sempre al centro del ring il tuo avversario e passi solo il tempo a dire oddio oddio quanto è cattivo il mio avversario è il centro del ring è appunto del tuo avversario questi non riescono a proporre qualcosa di positivo va bene abbiamo affrontato le questioni generali ora andiamo a vedere alcuni singoli dossier perché ci sono tante questioni che stanno sul tavolo del governo e non si capisce come questo governo abbastanza anemico sia in condizioni di affrontarli intanto le questioni bancarie che hanno uno spin off giudiziario lo racconta giacomo amadori a pagina 7 della verità maxi consulenze affidate da etruria papà boschi a giudizio per bancarotta in questo caso c'è un'altra inchiesta non quella per il crack ma quella per consulenze anomale in questo caso anche il papà di maria elena boschi è stato rinviato a giudizio nella metà superiore della stessa pagina l'altro tema che invece riguarda il problema attuale la popolare di bari e spiega giuseppe liturri che va sempre letto su queste questioni cresce il conto per salvare popolare di bari il fondo interbancario ha deliberato un impegno complessivo di 700 milioni 310 subito disponibili il piano di intervento sale a 1,4 miliardi ricorderete che fino a qualche giorno fa ci avevano detto 900 milioni ora sono già 1,4 mezzo miliardo in più e resta la tagliola dell'unione europea è abbastanza curioso perché diranno è aiuto di stato è per il salvataggio di una banca che fa capo ad alcuni lander tedeschi non hanno fatto obiezioni ma giustamente liturri dice nella consueta logica due pesi due misure che diranno stavolta non c'è però solo la questione banca c'è anche la questione ilva che carsicamente si è un po inabissata nei giorni scorsi la ritira su carlo nordio sulla prima del messaggero che coglie un punto molto poco rassicurante l'industria il suo futuro sono appesi a una sentenza investito dell'ennesimo ricorso sul funzionamento degli impianti dell'ilva il tribunale del riesame ha preso tempo riservandosi di decidere entro il 7 gennaio una scelta prevedibile vista la complessità della vicenda la consistenza dei documenti la competenza degli avvocati e non ultima la posta in gioco una posta che coinvolge la prima industria italiana ed europea della produzione dell'acciaio con decine di migliaia di posti di lavoro e una dimensione economica pari a 1 2 punti di pil è una posta che viene attualmente giocata su vari tavoli giudiziari perché il paradosso di questa odissea consiste in ciò se la fabbrica continua a produrre espone i suoi dirigenti all'incriminazione di inquinamento ambientale se invece chiude espone le stesse persone al rischio di un processo per reato di distruzione di materie prime con danno per l'economia nazionale ipotesi per la quale il pm di taranto avrebbe già aperto come si dice un fascico né il conflitto finisce qui perché un contenzioso civile è già stato eradicato davanti al tribunale di milano dove la locale procura è intervenuta nell'interesse collettivo e pare abbia pure lei iniziato a indagare in questo inestricabile metafisico gerbuglio la prima e principale domanda che ogni persona di buon senso si pone è la seguente dov'è la politica e da questa domanda carlo nordio sviluppa il suo ragionamento e arriva non vi lasciamo il piacere di leggerlo fino in fondo è a una conclusione chiara se la politica si ritrae è poi fatale che siccome i vuoti non esistono o tendono ad essere occupati sia poi la magistratura ad allargarsi allora il dossier banca il dossier ilva ma poi ci sono anche i due dossier quota 100 e reddito di cittadinanza la notizia è che non solo i renziani pongono in discussione queste norme in particolare i redditi di cittadinanza oggi è matteo renzi sentito da fabio mertini sulla stampa è il titolo d'apertura del quotidiano torinese e poi l'intervista si distende a pagina 3 cari grillini al sud servono cantieri e non sussidi colgo l'occasione per dire che renzi si distingue anche sulla questione conte su cui non sembra partecipare in questo ha ragione renzi mi pare al plauso generale alla costruzione della statua equestre di cui dicevamo per conte ho rispetto per il pd se zingaretti ha fatto questa scelta avrà i suoi motivi io non polemizzo né con nicola né con conte se pensano che conte possa essere il riferimento del mondo progressista prendo atto per noi non è così è il premier d'emergenza di una situazione d'emergenza stiamo tutti cercando di aiutarlo e dargli una mano ma abbiamo idee diverse sul futuro quindi renzi si smarca rispetto alla costruzione politica conte e si smarca soprattutto sul reddito di cittadinanza ma questo è abbastanza prevedibile lo si sapeva già la novità di ieri è che pure il partito democratico ha detto rivediamo reddito di cittadinanza è quota 100 anche un ministro sinistra sinistra come provenzano aveva detto la stessa cosa ieri palazzo chigi anche per placare i grillini ha dovuto fare una nota no dicendo queste misure non si toccano però in fondo il nervosismo c'è e lo racconta in questo caso enrico marro siamo a pagina 4 del corriere della sera reddito e quota 100 da rivedere il pd apre il fronte ma di maio mai e chi è l'esponente del pd che ieri è stato più vocale su questa questione è stato il capogruppo al senato marcucci che peraltro è un vecchio amico di matteo renzi però è rimasto nel pd come capogruppo al senato quindi con un incarico importantissimo e naturalmente ieri sui social molti sono chiesti ma marcucci a che titolo lo fa lo fa come quinta colonna renziana lo fa come esponente del pd che tira la corda in vista della verifica della befana staremo a vedere il tema non mi sembra francamente di quelli proprio appassionanti mentre è invece appassionante discutere del merito delle questioni e su questo oggi si raccomanda la verità con una serie di pezzi che che vi segnaliamo gianluca baldini che parla della situazione di quota 100 come ha funzionato e dice baldini i giallorossi vogliono affossare questo esperimento sul reddito di cittadinanza che invece ha fatto flop se ne occupa patrizia flo del reiter ci sono altre due questioni economiche su cui la verità si raccomanda un pezzo molto importante di giorgia pacione di bello che si distende per tutta pagina 9 vi ricordate quando ve lo dicevamo in tutte queste settimane guardate che hanno fatto un guaio nell'ultima manovra i giallorossi sulle partite iva non solo non hanno esteso la flat tax ai redditi fino a 100.000 euro ma pure per quelli fino a 65.000 dove hanno detto sì sì manteniamo il regime del 15 però hanno ripristinato tutti quei paletti quei divieti di cumulo quei limiti se la partita iva dei dipendenti eccetera che costringeranno tante partite iva a rinunciare a questo regime e non lo spiega bene giorgia pacione di bello hanno nuovo horror per le partite iva una su quattro esclusa dalla flat tax cioè è clamoroso colpiti quasi 350.000 piccoli imprenditori ma anche gli ex dipendenti pd e 5 stelle hanno demolito l'impianto voluto dalla lega da domani i redditi superiori a 30.000 euro diranno addio alle soglie agevolate al 15 per cento sì perché se c'hai questo cumulo o se spendi una certa cifra per i dipendenti e sei partita iva non hai più diritto al regime agevolato al 15 risultato ti saluto partita iva bel capolavoro l'altra cosa è un'intervista ho conversato con alberto brembilla che è sempre un personaggio interessato aperto brembilla è un esperto di questioni previdenziali guida il centro studi itinerari previdenziali in questo caso si occupa della condizione non solo dei pensionati ma dei contribuenti di fascia alta massacrati di tasse da delle cifre impressionanti l'1,49 dei contribuenti italiani si fa carico di oltre il 20 per cento del gettito irpef e anziché dare la medaglia diciamo a questi contribuenti diciamo in termini meno enfatici anziché incoraggiarli a consumare a far muovere l'economia a spendere di più per il bene e tutti gli altri no li si massacra con un taglio o addirittura con la minaccia di eliminazione delle detrazioni e correttamente brembilla parla di una specie di giad fiscale contro chi è solo colpevole di avere un reddito elevato anche i ricchi piangano è piccolo risultato che poi questo non fa necessariamente sorridere i più poveri e non fa soprattutto sorridere l'economia italiana allora abbiamo visto i singoli dossier cioè le banche l'ilva quota 100 il reddito di cittadinanza le partite iva il trattamento fiscale dei contribuenti resta un'altra questione ma che fine ha fatto il decreto mille proroghe che era stato approvato salvo intese alla fine il testo è stato licenziato si ce lo racconta il messaggero in un pezzo firmato da umberto mancini e jacopo orsini che ci informa che il presidente della repubblica ha pure firmato e la cosa è abbastanza clamorosa perché comunque la pensiate sulle norme relative alle concessioni e la verità ha assai giustamente sottolineato come sia opportuno diciamo ridurre gli elementi di eccessivo vantaggio per il concessionario che erano presenti da troppi anni ma che indennizia però comunque la si pensi su quello sembra difficile dire che si tratti di una norma che richiede necessità e urgenza cioè i presupposti del decreto d'urgenza dove stanno invece il presidente della repubblica ha firmato ce ne informa il messaggero mattarella ha firmato il decreto così il pezzo a pagina 4 del messaggero allora siamo ormai alla fine resta il tempo per 4 5 segnalazioni conclusive allora intanto straordinario francesco borgonovo che mette a posto un po di cose chi si mette a dare lezioni contro il linguaggio d'odio alla faccia come il cuore scritto però maiuscolo e qual è il ragionamento del vice direttore della verità davvero a maggior ragione oggi la verità si raccomanda quando c'è borgonovo bisogna sempre leggere di che si tratta diceva come ai tempi di cuore il supplemento satirico dell'unità diretto da michele serra era tutto satire era tutto consentito adesso le stesse persone stanno col ditino alzato se uno fa una battuta oddio oddio c'è polemica e opportunamente il pezzo di borgonovo è corredato da alcune copertine politicamente scorrettissime allora di cuore l'immagine di michael jackson ha sbagliato candeggio alludendo al colore della pelle par condicio risorge anche maometto immagina un negro vince la marcia su roma voi immaginatevi se oggi questi titoli li facesse il supplemento satirico di un giornale di destra salterebbe sui tavoli michele serra michele serra chi proprio il michele serra che diresse all'epoca cuore e fa molto bene francesco borgonovo a cogliere questa contraddizione a proposito dobbiamo ringraziare anche riccardo torrescura sulla verità che difende me e marco gervasoni ma insomma difende il buon senso sulla questione di rula gebreal a sanremo che è successo ma ditemi voi a sanremo manifestazione canora spettacolo per definizione dovrebbero essere chiamati a condurre co condurre presentare co presentare figure diciamo politicamente non divisive politicamente non esposte e invece girava la voce del coinvolgimento accanto ad amadeus non si capisce bene con che logica di rula gebreal la giornalista pro palestina scatenatissima contro l'america contro israele che ha dato agli italiani dei fascisti il rischio nazismo tutte cose allucinate alcuni io stesso gervasoni ma soprattutto tanti utenti social hanno detto ma insomma è proprio necessaria questa cosa ieri interessante sui social repubblica il fatto quotidiano avevano provato nelle loro versioni online a scatenare l'ira di dio l'ira di di dio si è però scatenata diciamo in una direzione a loro sgredita e infatti oggi sui giornali non troviamo moltissimo c'è un corsivetto di antonio di pollina su repubblica con qualche espressione sgradevole ai miei confronti ma insomma buon anno anche a di pollina un trafiletto sul fatto un boxino sul tempo un pezzo di cronaca neutro sul giornale sia pure con un titolaccio soranisti scatenati il messaggero ci informa che però il dialogo con la gebreal da parte di amadeus che sarà il conduttore di sanremo è in alto mare e invece mette le cose a posto torrescura sulla verità cerca di rimettere le cose a posto invece su una cosa ben più grave e seria il corriere della sera che ieri aveva francamente esagerato con un'intervista a uno scrittore e poi con l'editoriale di massimo gaggi che chiamavano in causa trump per l'atto di antisemitismo violento compiuto da un afroamericano e oggi lo stesso massimo gaggi sente invece alan dershowitz avvocato noto per tante difese di cause e di diritti civili non certo sospettabile di simpatie trumpiane che con buon senso dice le cause non sono politiche e trump è estraneo e meno male che il corriere della sera diciamo ci ha messo un giorno a sistemare le cose e invece non sistema le cose il corriere della sera nelle pagine della cultura noi questa mattina abbiamo dovuto rileggere due volte perché diciamo vabbè ma sarà sarà la confusione la stanchezza il fine anno che cosa è successo ricorderete che la scorsa settimana dacia maraini aveva scritto un surreale commento paragonando gesù alle sardine e anche con qualche passaggio che ovviamente non era piaciuto affatto alla comunità ebraica al rabbino di segni che aveva giustamente diciamo risposto a tono alla maraini naturalmente anche sui social il pezzo della maraini non era piaciuto e ora 32 firme contro gli insulti alla maraini parte la solita cosa firmaiola povera maraini anziché dire hai scritto un mucchio di sciocchezze no la difendono e alcune firme sono esattamente quelle che immaginate laura boldrini poteva mancare serena dandini e poi gallina sastri e poi pino strabioli michela murgia quella del fascistometro tutte le solite sandra petrignani tutti i firmaioli di sinistra ma troviamo all'ultimo posto solo perché il suo cognome inizia con la v però la firma più autorevole e siamo rimasti increduli lucio villari uno dei maggiori storici italiani che si confonde con l'idia ravera michela murgia tiziana ferrario laura boldrini per dire giù le mani da da ciamarei le terrazze romane sono una roba devastante anche il professor villari si fa coinvolgere in questo clima da terrazza va bene finiamo qui il tempo è ampiamente scaduto oggi ci siamo anche dilungati un po grazie ancora a tutti moltissimi auguri l'invito è quello di passare in edicola a prendere la verità che oggi è piena di cose e quindi da questo punto di vista viene bene il fatto che ci siano non 24 ore ma 48 ore per leggere e rileggere alcuni articoli domani invece i giornali non saranno in edicola lo saranno di nuovo il 2 gennaio quando ci risentiremo anche in questa rubrica alle 7 di mattina sarà con me marco gervasoni buon anno a tutti